Adesso Grazie 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 Manzo Manzo Va bene Va bene dai, appena finita Grazie 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 a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Buon... Buon... Buon bellissimo... Buon bellissimo canto. Il Corvano di Altina, diretto dal maestro Roberto Stipano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quando pensiamo qua nel nostro, ci viene a sorridere pensando un po' agli apostoli e quando Gesù l'ha presentato, no? Perché gli apostoli, diciamo, la moneta di Soroni, andavano presso a Gesù e ci piace immaginare che ogni tanto Gesù gli diceva, no, io vado a pregare. E loro non è che da una parte si devono fare, o non un libro, o non un testo, fino a quando è uno da tutte le ragazze passate, ve lo chiedo io, si è avvicinato, mi ha detto maestro, ma insegnate noi a pregare. E noi magari con un sorriso e le ha detto, fate così. A voi il padre nostro armonizzato, a Francesco Milla. Padre nostro, che segna i cieli, si ha santificato il tuo nome. Padre nostro, che segna i cieli, si è avvicinato, mi ha detto, fate così. Padre nostro, che segna i cieli, si è avvicinato, mi ha detto, fate così. Padre nostro, che segna i cieli, si è avvicinato, mi ha detto, fate così. Padre nostro, che segna i cieli, si è avvicinato, mi ha detto, fate così. Applausi. 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 c'è una città, una statua molto bella, dove c'è il bambino Gesù che guarda Giuseppe, il bambino lo guarda, lo guarda e gli tocca la barba da sotto così, e c'è questo Giuseppe quasi imbalanzato che lo guarda, e il bambino si propria dirgli guarda, poi anche dà un bacio, perché proprio sono un bimbo come tutti gli altri, il prossimo canto è una lina nata, talmente bella che noi la cantiamo, i ragazzi lo sono bene tutto l'anno, basta che troviamo una chiesa, un po' per un momento, ma che però questo già ci ha cantato, perché è una dolcezza incredibile, e a volte arriva a pensare anche, tra l'altro e secondo me mi sembra, ci sarà il battesimo di Gesù, il pangelo di Matteo quando Gesù, Dio padre, dice presente il figlio, no? E dice, questo è il figlio mio amato, con tutto rispetto per la c'è il 2008, però parliamo a immaginare come trattoremo oggi, in queste immagini di un papà che guarda il bimbo, no? Non direbbe l'amato, direbbe alle persone, questo è l'amore mio. Ecco, intorno a questa culla che sentirete tra un poco ci sono tutti, ci sono tutte le persone inane, ci sono anche gli albini, e tutti guardano questo bimbo, la canzone dice, la barba ha tremato, la barba di Giuseppe, l'amor se ne ha incantato, quindi si è fermato a cuore quando si guarda, no? Perché tutti guardano questo bimbo che sembra come tutti gli altri, e che hai le manine bianche di Aleppo Vento, hai le manine bianche come tutti vedi, poi se ne esce qualcuno che lo guarda bene, e che hai gli occhi come il cielo, nei tuoi occhi c'è il cielo. Intorno a Bepi da Marzzi. Applausi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il prossimo brano è appunto una rappresentazione del presepe, diciamo la nostra rappresentazione del presepe, perché oltre a Giuseppe Maria e al bambinello c'è qualcosa in comune l'aria. C'è una musica leggera, un ministretto che suona e canta e che dice a tutti quanti non dormite, rimanete svegli, perché quello che sta succedendo stanotte non so se vi succederà una volta. E poi invita ancora a tutti quanti con un sussurro quasi di soffio, basa al tuo pensiero, sei portadero, dai un bacio a chi ti sta accanto, sei portadero. I bambini dei maschi, piccola canta di raggi. Applausi. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. e a tutti. 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 ma... a tutti. 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 a tutti.